Il crollo del santo di Dino Buzzati Dopo pranzo i santi usano passeggiare lungo una vasta galleria sopraelevata, sopraelevata miliardi di anni luce, fra due pareti di cristalli riquadrati in alluminio, e un vero e proprio soffitto non c'è. Il soffitto è il cielo dei cieli e nient'altro. Tanto lassù non piove. La parete di sinistra, prendendo in quella direzione, ha molti riquadri di cristallo aperti, dai quali entra l'aria ineffabile del paradiso, di cui una boccata sola rapirebbe noi infelici, che ancora viviamo in una felicità non possibile da sopportare con le nostre sole forze, e da cui entrano, sia pur lontanissimi, i canti dei beati simili in un certo senso, tanto per dare un'idea, a certe canzoni di contadini che si odono qui da noi in campagna, verso il crepuscolo, e che ci stringono il cuore, però milioni e milioni di volte più belli. La parete di destra, invece, è tutta chiusa. Tuttavia, attraverso i suoi limpidissimi vetri, si può dare un'occhiata all'universo che se ne sta laggiù, gelido e ardente, con miriadi di nebulose rotanti una sull'altra, in eternità di moto. Di là si scorgono gli astri principali e secondari, perfino i pianeti e i relativi satelliti si vedono nelle loro minime particolarità, perché la vista dei santi, una volta issati lassù, non conosce limiti. Naturalmente nessuno dei santi, o quasi, guarda da questa parte. Come potrebbero interessare le cose del mondo a chi ormai, e per sempre, dal mondo è liberato? Non si diventa mica santi per niente. Ma se uno di essi, negli ondeggiamenti del passo, durante la conversazione, si avvicina alla vetrata di destra e inavvertitamente vi dirige gli sguardi, così da poter scorgere le stelle con annessi e connessi, l'atto del santo non fa specie, nessuno si meraviglia o scandalizza, anzi, il panorama del creato è consigliato da alcuni padri della chiesa come ausilio per fortificare la fede. Ora avvenne che santo Ermogene, quella sera, scriviamo sera tanto per dire, lassù non essendoci né sere né mattine, bensì un'immutabile gloria di pienezza e luce. Chiacchierando con un amico, si avvicinò alla vetrata di destra e diede un'occhiata. Era, santo Ermogene, un vecchio di grande distinzione. Aveva colpa forse lui se era nato da una famiglia altolocata e, prima che Dio lo rapisse, era vissuto da signore? Gli altri santi lo prendevano benevolmente in giro per la cura nel drappeggiarsi intorno alla eterea figura il paradisiaco manto, con una eleganza che Fidia, ai suoi bei tempi, manco se la sognava. Perché non è da credere che, anche nei cieli, non esistano le debolezze umane, benedette, senza le quali anche la più santificata santità sarebbe un'arida luce al neon da piangerci sopra? Ebbene, Ermogene, proprio senza intenzione, strizzò per un momento gli occhi allo scopo di rivedere il posto dove era venuto la sdrucita, rugosa, dissoluta terra, cioè la vera casa dell'uomo e, proprio senza la minima intenzione, fra le mille e mille cose della terra, vide una stanza. La stanza era nel cuore di una città, era grande, alquanto denudata dalla povertà di chi vi abitava, con una grande lampada centrale e sotto i raggi della lampada otto ragazzi disposti così, appollaiata sullo schienale di un divano una sui vent'anni, spiritata e molto bella, sul divano due giovani, altri due in piedi di fronte, assorti, gli altri tre, due ragazze e un maschio, accucciati ai loro piedi sul pavimento e da uno sgangherato giradischi una storia di Jerry Mulligan usciva. Uno parlava, era uno dei due seduti sul divano e diceva cose di sé, cose stupide, assurde, riguardanti le cose che lui avrebbe fatte un giorno, le quali avrebbero portato ad altre cose bellissime, grandi, e pure. Era, a quanto era possibile capire, un pittore e parlava delle cose sue che gli premevano dentro, esclusivamente sue, eppure talmente cariche di aspettazione, di speranza e di amore che anche gli altri, uno per uno, per similitudine d'animo, pensavano ciascuno con intensità travolgente ai propri sogni, ingenui forse o insensati. Tuttavia, per una sorta di incantesimo, tutti erano, in quell'attimo, o quell'ora, trascinati su, su, verso i giorni e gli anni che verranno, verso la misteriosa luce che, in quell'ora profonda della notte, scaturiva lentamente dall'orlo nero degli ultimi tetti, la luce, prima dell'alba, del giorno che sta per venire, che verrà, il grande, meraviglioso destino, il quale è appunto lì che aspetta. Fu uno sguardo soltanto quello di Santo Ermogene, un piccolo sguardo, tanto è bastato, aveva una certa faccia a Santo Ermogene quando gettò lo sguardo sull'antica patria terra. Quando si rivolse di nuovo all'amico con cui stava discorrendo, aveva la faccia di prima ma, però, completamente diversa. Uno di noi che lo avesse visto non si sarebbe accorto di niente, ma l'amico era un santo con un'acuta sensibilità a queste cose. Gli disse, Ermogene, cos'hai? Io? niente, disse Ermogene, e non era una bugia, un santo che dica bugie non esiste, solo che lui non aveva ancora capito. Tuttavia, nell'attimo stesso in cui pronunciava quelle due parole, io? niente. Ermogene, di colpo, si sentì selvaggiamente infelice. Gli altri subito lo guardarono, perché i santi si accorgono all'istante se uno di loro cessa di essere beato. Con pietà cristiana, cerchiamo adesso di vedere quello che accade dentro di lui, perché è infelice il santo, perché gli è stato tolto il premio eterno. Egli ha visto, per un attimo sia pure, ha visto i giovani, uomini e donne alla porta della vita, ha riconosciuto la speranza terribile dei vent'anni che credeva dimenticata, ha ritrovato la forza, la carica, il pianto, la disperazione, la cerba potenza della giovinezza con quell'immensità disponibile da venire. E lui è lassù, nell'Empireo, dove nulla è desiderabile più, dove tutto è beatitudine e domani sarà ancora la beatitudine, la stessa e postdomani anche e il giorno dopo ancora beati fino al gozzo, infinitamente e così per l'eterna eternità. Ma, ma la giovinezza non è più, non si è più inquieti, incerti, impazienti, ansiosi, illusi, febbricitanti, innamorati, pazzi. Ermogene stava fermo, era pallido, i compagni intorno si ritrassero spaventati, non era più dei loro, non era più santo, era un infelice. Ermogene lasciò cadere le braccia, lo vide e si fermò a parlargli Dio che per caso in quel momento passava di là. Gli batte una mano sulla spalla. Che cosa ti succede, vecchio Ermogene? Ermogene fece segno con un dito. Ho guardato laggiù, ho visto quella stanza, quei ragazzi. Ti ha preso il rimpianto della giovinezza per caso? Gli disse Dio. Vorresti essere uno di loro? Ermogene col capo fece cenno di sì. e per essere uno di loro rinunceresti al paradiso? Ermogene fece cenno di sì. Ma che sai del loro destino? Sognano gloria e magari falliranno, sognano ricchezze e patiranno la fame, sognano amore e saranno traditi, fanno calcolo di lunga vita e domani saranno morti. Non importa, disse Ermogene. Per ora possono sperare in qualsiasi cosa. Ma le gioie che quelli sperano, tu qui le possiedi già, Ermogene, e senza limiti. Per di più hai la certezza che nessuno te le potrà togliere per l'eternità. Non è pazzesca questa tua disperazione? E' vero, signore, però quelli, e fece cenno laggiù ai giovani sconosciuti, quelli hanno ancora tutto dinanzi, bello o brutto che sarà. Hanno la speranza, mi spiego? La meravigliosa speranza. Mentre io, io che speranza posso avere, io, santo e beato, immerso nella gloria dei cieli. E lo so, disse l'onipotente con vaga malinconia, questo è il grave inconveniente del paradiso, che la speranza non c'è più, per fortuna, e sorrise. Fra tante distrazioni qui di solito nessuno se ne accorge. E allora? Chiese santo Ermogene, non più santo. Vorresti che ti rispedisca laggiù? Vuoi ricominciare tutto da capo con i rischi relativi? Sì, signore, perdonami, ma vorrei proprio questo. E se stavolta fallirai? Se la grazia stavolta non ti sorreggerà, se perderai la tua anima? Pazienza, signore, quassù ormai io sarei per sempre un'infelice. E allora va, ma ricordati, figliolo, che qui ti aspetteremo e ritorna rinsavito. Gli diede una piccola spinta. Ermogene precipitò giù negli spazi. Si ritrovò giovanotto ventenne nella stanza con gli altri otto ragazzi, simile a loro, con indosso un paio di pantaloni di flanella e un maglione. Nella testa tante confuse idee sull'arte, tante ansie, smanie di ribellione, desideri, tristezze, struggimenti. Felice? No, tutt'altro. Ma nelle profondità di se stesso c'era qualcosa di bellissimo che non riusciva ad afferrare, che era insieme ricordo e presentimento e lo chiamava come un lume acceso al remoto orizzonte. Laggiù era la felicità, la pace dell'animo, l'esaudimento dell'amore. E tale richiamo era la vita e per raggiungerlo valeva la pena di patire. Ma ci sarebbe mai arrivato? Permettete, disse avanzando nella stanza, e tendendo la mano. Mi chiamo Ermogene, spero che diventeremo amici.